Sigilli alla vasta superficie utilizzata da una società esercente l'attività di preparazione di cantieri edili, escavazioni e sistemazione del terreno. I militari della Guardia di Finanza di Pesaro hanno rilevato la presenza di ingenti quantitativi di materiali, risultanti da demolizioni da edilizia private ed industriali, quali lastre di cemento armato e fibro cemento, residui bituminosi e ferrosi, depositati in un terreno sito nel comune di Montelabate, nel Pesarese. Gli inerti sono considerati veri e propri rifiuti che necessitano per la lavorazione e lo smaltimento di apposite autorizzazioni rilasciate dalla provincia. L'attività investigativa, svolta mediante numerosi sopralluoghi e opportuni approfondimenti tecnici, ha consentito di appurare che l'area era classificata catastalmente come agricola e che la società che la gestisce è priva delle necessarie autorizzazioni per la lavorazione, lo stoccaggio e lo smaltimento di scarti di lavorazione ed ile. Alla società, infatti, sono state rilasciate le previste autorizzazioni per svolgere tali attività solo nelle aree adiacenti. Pertanto i finanzieri, in collaborazione con la Polizia Provinciale di Pesaro ed il personale tecnico dell'ARPAM, specializzato nell'analisi e classificazione dei rifiuti pericolosi, hanno sottoposto a sequestro l'area di circa 10.000 metri quadrati e segnalato alla locale procura della Repubblica il rappresentante legale della società, un giovane di 22 anni, per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Lo stesso è stato inoltre segnalato al Comune di Montelabate, che potrà ora disporre le necessarie operazioni per la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e intimare al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi al fine di evitare la contaminazione del suolo.